Buongiorno ragazzi, questa la devo raccontare perché sono strafelice, strafelice veramente. Allora, va bene che io tutte le cose che ho sempre raccontato e testimoniato erano rivolte verso di me, parlando io, io, dei miei successi, dei miei traguardi, delle mie disgrazie e tutto il resto, e tutto quello che ho fatto nella mia vita, parlavano sempre di me. Dopodiché riprendevo le persone che ti stimoniavano personalmente di tutto quello che gli è successo grazie alle mie lezioni. Invece stamani la testimonianza di una giovanissima imprenditrice che è venuta da me a gennaio e fa lezioni individuali con me, e stamani mi ha raccontato il suo bilancio. Allora, lei è arrivata da me a gennaio, stava malissimo, dolori al collo, alla colonna vertebrale, non dormiva, prendeva antidolorifici, forte emicrania, cioè una vita terribile, il lavoro non andava, non riusciva a seguire i clienti, la vita privata era disastrosa. Niente, ha sentito, mi ha visto il mio filmato su Instagram e ha detto, provo a chiamarla. Niente, ha chiamato, è venuta da me, abbiamo fatto una lezione di prova e lei ha detto, guarda, io voglio investire questi soldi e il tempo per me, perché così io non posso andare avanti. Sono troppo giovane, ho un bellissimo mestiere, ma non va, perché io non riesco, non riesco a lavorare, non dormo, sono piena di roba che devo prendere e tutto il resto. Allora faccio questo passo molto grande per me, perché lo so benissimo che lezioni individuali costano tantissimo, eccetera. Niente, sono passati, da gennaio siamo a luglio, questi mesi, e lei ha detto, questo è il mio bilancio. Allora, non uso antidolorifici, ma quello lo sapevo già mesi prima. Sto dormendo molto meglio, ho aumentato stipendio in una maniera indescrivibile, perché mi sveglio, non ho dolori alla testa, dormo benissimo, mi prendo clienti quando voglio, come voglio, orari che voglio, stacco quando voglio, faccio la vita mia privata, la conduco in una maniera che non ho mai sognato. Ragazzi, io queste cose ho provato su di me, ma non ho mai sentito parlare un'altra persona, perché io ho lezioni di quel genere, pratico soltanto da quattro anni. Io ho la mia carriera quasi di 40 anni di insegnamento, ma da quattro anni che sono andata in questa direzione a cercare di aiutare le persone, uomini e le donne, a cambiare il loro stile di vita, investendo proprio soldi e il tempo per aumentare, aumentare i guadagni, cambiare proprio completamente la vita. Infatti, addirittura, c'è gente che cambia lavoro, cambia la vita, cambia addirittura la famiglia, cambia tutto solo grazie alle mie lezioni. Infatti ha detto, ho fatto un bilancio economico, te non puoi immaginare quanto sono strafelice con tutti questi soldi che guadagno in più, è il tempo che ce l'ho di più, più di prima. Prima invece ero veramente disastrata e soprattutto stavo male. Non riuscivo a capire e non credevo nemmeno che si potesse uscire dal dolore atroci così. Dopodiché, va bene, io ho detto, ascolta, proviamo a fare prime dieci lezioni, poi vedremo come vanno. Invece subito, dopo dieci lezioni, le fanno ancora, ancora, ancora. Perché se ragazzi faccio questa testimonianza perché tanti mi chiamate, tanti mi scrivete, tanti chiedete aiuti e soprattutto mi dite che non ho i soldi, non ho il tempo, te non capisci che è la vita che conduco. Benissimo. Io non capisco la vita che conducete, voi avete la vostra vita, avete i vostri problemi, avete il vostro disagio. Io sono qui per aiutarvi, dopodiché decidete voi. Perché se gli altri riescono, ragazzi, lo possiamo anche fare noi. È tutto possibile. Un bacione. Ciao.